andiamo ci manca qualcuno qua? chi ci manca? desdemone! desdemone! ma che pigrona che è questa bambina qui eh piccole? un po' pigrona un po' pigrona un po' pigra un po' pigra un po' pigra e un po' pigra un po' pigra e un po' pigra uno ma che è difficile ma qui c'è guardate che c'è Kumar ha sentito che eravamo qui buona arrivata signorina guarda che c'è Kumar è venuto a trovarci ti senti solo Pumi? amore? ma hai ragione sei sempre solo ecco che arriva il passo ecco 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 ciao amore non fate baccano però eh non vi caga neanche basta Cooper anche te? dai basta 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 capirai ben arrivata desdemone ben arrivata fra noi andiamo lo lasciamo stare andiamo dai andiamo a giocare di qua su dai bravo Cooper Cooper è bravo Elisabeth è bravissima Elisabeth è veramente sempre attaccata alla sua mamma sempre ragazzi andiamo dai Celeste Bebina dai andiamo andiamo dai Vivian andiamo Vivian è brava stasera senza mangiare se non venite dai andiamo 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 e li lasciamo lì dai vieni Celeste dai Rosi Piano che vi fate male così piano Cooper che sei un animale che sei un animale ah ma arrivate allora ah ma allora arrivate anche voi bravi dai che andiamo piccolette si qua qua no 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 andiamo andiamo dai vieni Celeste dai che andiamo su dai vieni Eli Dezemone andata Ziti ehi mi è tremendo povero Kumar vieni Eli vieni corri 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 Eli vieni vieni qua dalla tua mamma vieni corri corri brava ehi dai andiamo dai andiamo povero Grazie.